Credo che siamo ormai riusciti, anche oggi è una dimostrazione, a trovare il giusto consenso in termini di condivisione generale di questo percorso. Ora siamo d'accordo su che cosa si è dovuta fare, cioè una riforma. Abbiamo deciso anche il metodo e quindi quello della condivisione. Questo secondo me è una novità assoluta e ora si tratta di mettersi a tavolino e cominciare a scrivere. Siamo passati da una fase di protesta a una fase di proposta e probabilmente questa è anche la nostra maturità associativa che probabilmente la politica si aspettava che dimostrassimo.